Ciao a tutti ragazzi, per vedere un nuovo canale creato da me Luca e Paolo, un canale dei game players e questa è una nuova serie, Dead Space 3, io già mi rincago in mano a vedere solamente il gioco Beh Paolo iniziamo? Iniziamo Iniziamo dai Perfettissimo Perfettissimo Quanto so bello Quello dietro è bello Sì Paolo, sì Cazzo Kaufman, non ce la faremo Alfa 9, qui Whiskey 250 No, non è bello Alfa 9, 250 Serrano, mi ricevi? Serrano Ma io sono brutto Beh Beh con quale grafiche e movimenti, me lo stai dicendo Andiamo Carcola, non mi ricordo più i testi Non riesco a vedere niente Come? Siamo finiti in mezzo a questo casino Il dottore ha bisogno di noi, sento Avanti, avvocato Non siamo per i soldati, Cristo Tu non sai nemmeno come si impugna il fucile Pippa Eh sì, a voi ti piacerebbe Oh no Oh merda Corri qua ragazzo, laggiù Sembra che ci stiamo andando addosso Corri, corri ragazzo Ehi, l'ho trovata Bene, riuscite a entrare È sigillata Guardate, intorno deve esserci un moto Ma la carica, vamo Allora, tu spacca il fresco E io gli do un caldo benvenuto Poi apri Dalbel Ma che c'è un airpulso in testa? schifoso mezzo andava l'aspetta che difficoltà stiamo? normale se non erro si mavolo lo sparo io e sparo idea tanta cosiddetta no che è colegio la via a palla se qualcuno scureggia lo sento veramente è altissimo è altissimo è altissimo purissimo è un bellissimo quick time event ci sono corri ok vai e uno con shift è il secondo topato oh ma faccio proprio schifo eh troppo a bordello che ti ho sparato la fortuna del principiante ci sono pochi morti io mi sa che sono morto no no non penso dopo una trambata del genere mi è arrivata una vicella addosso infatti è l'irurnia dai roba ottimi giovani soldati fino all'ultimo generale Mahat signore abbiamo fatto un casino abbiamo fatto un casino per il bene della terra e delle colonie sovrana ami la terra figlio tua madre tuo padre si signore certo bene sono felice ah un buchino t'ha fatto si si è leggero un a te e un a me e un a me due buchi fratelli e sorelle saltiamo qualche scena qua in là dai giochiamo tranquilli perché si si vai Isaac è tua ti ha penzonato sei caduto nella frenza sei caduto nella frenza non ti ama più Isaac si ma non ti cazzà però eh io vedo tutto sfogato no io do bene ah io lo vedo sfogato eh se c'è un pc de merda ne è colpa mia certo ok si è appena giusto e questo è il modo di rispondermi tiralo su su non ho molto tempo per cui sarò breve mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi mi hai creato uno mi hanno costretto è stato il vostro governo e ne hai distrutti due è per questo che siamo qui abbiamo un lavoro no no sono stanco trovate qualche altro volontario suicida abbiamo fatto prima di perdere il contatto con lei ci ha detto di cercarli è lì dove? che le avete fatto? ditemi dov'è gli unitologisti sono entrati nella sala interna nessuno li ferma capitano non c'è più tempo muoviamoci è là fuori sola Isaac che se tu non mi aiuti io non posso aiutarla dai Isaac mostriamo lì come si impugna l'arma andiamo eh non quell'arma non quell'arma Isaac tutta ma non quell'arma se no è troppo facile il gioco che dici? eh Isaac che cosa mi combina lei? questa mi sapeva tagliare no no non la taglio la lascio solamente che porca puttana sto facendo un casino quest'arma non va bene ecco dove devo andare? così ecco questa qua va bene ricordiamoci che hai dovuto togliere quell'arma perché se no a che? that fuck ok ho detto che ti avrei aiutato quanto stai io? da quanto tempo stai? ecco vai io te c'hai la corazza non è giusto eh certo fratelli e sorelle buonasera l'ultima unità io faccio le capriole ma non ce ne sono ma non ce ne sono ma la back bar ha detto finché non mi muovo ecco il che babbaro esplode è la back bar oh oh munisce no fermi tutti oh che sotto è segnato fermi tutti ti sei con le gambe dove sei? ah non ci sta più questi sono degli unitologisti perché vogliono ucciderci? basta che vogliono uccidere te ah non ti sapeva mettere tipo battene da lei e chiudi la rocca cosa? ah riparo eh non mi ricordo che con x si fa eh no con x ti chiedi ah mi ricordo che se poteva mettere ma ti paro eh con x vedete x eh e ti vedi sì no nel senso mi ricordo che se poteva tipo vengono che si mette ma tipo eh mo ho messo a chiedere troppo mo ho messo a chiedere troppo no ho sbagliato ciao ciao è il momento di spaccare i grandi culi ma perché? allora ah cazzo ho finito già le cose sto come se c'è così male te credo cazzo ci sono un piccolo problema che è? è che non ho sbrotato l'inventario quindi ho diciamo una cifre munizioni 30.000 kit medici a sto punto potevamo alzare dalla difficoltà del gioco eh ma io non so niente però te io c'ho il mondo però perché non sape? ah eh Isaac adesso non c'è modo di aver paura vero? questo è quest'uomo dove si trova? non lo so alfame de merda a pezzo de merda si è detto la coglia di persone ma no mamma mia eeeh coq se non sbaglio vero? non si fermerà no come coq? 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 può rallentare il traffico per passare come coq? ah coq? che razione penso che era coq pensa a farlo tipo sulla via del mare una cosa del genere ahahahahah ahahah ops beh il risultato più o meno è questo sì io sto da dosi sì ma non è da questa gente? chi mi ha ammazzato? ci siamo eh dobbiamo arrivare al te qua eh Paolo? vai ah eccoci è tempo di aprire la porta ah beh io direi di finire qua il video cosa ne pensi? perbacco un bel massacro eeeh eh sì eh eh sì ci vediamo ragazzi qui dai gameplayers è tutto al prossimo appuntamento ciao 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 ciao